Viviamo in una società nella quale il ruolo della conoscenza assume una centralità fondamentale nei processi di vita e fonda la propria crescita e competitività sul sapere, la ricerca, l'innovazione e il cambiamento. Nella società della conoscenza le modalità di relazione e apprendimento stanno cambiando. Assistiamo a spostamenti continui da un lavoro o ruolo all'altro e a cambiamenti di contesto che richiedono modelli di conoscenza e comportamento sempre differenti. Con il Network Learning si sta attuando un processo di disintermediazione tra formatore e formato, ridisegnando una relazione che ora sembra diventare sempre più paritetica. Anche gli spazi dell'apprendimento stanno cambiando, da spazi fisici a spazi aumentati, in cui il broadcasting si afferma come modello di apprendimento scalabile e replicabile che trova immediata applicabilità nella nostra nuova normalità. Per un designer l'innovazione della conoscenza è innovazione degli spazi di apprendimento, dei processi, delle tecnologie abilitanti per la formazione e l'aggiornamento continuo di quella conoscenza utile per l'avanzamento dell'uomo, delle organizzazioni e della società. In equilibrio tra trend emergenti e scenari preferibili, il design è ciò che può rendere resiliente, adattiva e poi trasformativa l'innovazione della conoscenza. Il nostro è il simposio internazionale in Future Design for Knowledge Innovation, formato ibrido, tra i verticali esplorativi per un rush show digitale che confluirà in un evento a marzo 2021. Il simposio Future Design for Knowledge Innovation è l'occasione per avviare un dibattito internazionale che ci aiuterà a interpretare i trend emergenti su temi di attualità e rilevanza legati all'innovazione nella conoscenza e nelle pratiche di apprendimento organizzative, focalizzandosi su formazione continua, nuovi spazi e nuovi processi di organizzazione sociale e decisionale e innovazione tecnologica. Preparati al rush show e resta aggiornato sulle nostre iniziative. Grazie. 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 Grazie.